Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, appuntamento settimanale con Topolino Libretto, finalmente dal vivo e non tramite l'applicazione, ma solo grazie al fatto che ho comprato la versione in edicola con allegata il francobollo per i cento anni della Disney. Altrimenti, se dovevo aspettare la mia copia d'abbonato, come al solito, non avrei ottenuto nulla. L'applicazione non l'ho proprio guardata oggi, quindi non so se funziona, ma adesso andrò a leggere subito questo numero per poi portarvi ovviamente la mia opinione. Però approfitto di questa introduzione per ringraziare pubblicamente l'amico Z-222, questo è il suo nickname su Instagram, il quale mi ha omaggiato di un bellissimo ritratto ritraente, me medesimo, in versione papero. Adesso lo metterò qui a schermo per farvelo vedere e per ringraziare di nuovo l'amico Z che, così senza nessuna richiesta, mi ha voluto omaggiare appunto di questo bellissimo disegno che per me è un regalo davvero graditissimo, che penso utilizzerò come nuova immagine del canale e anche della mia pagina Instagram. Se volete saperne di più vi lascio in descrizione il link della sua pagina Instagram, contattatelo se volete, è un ragazzo davvero in gamba e ve lo consiglio vivamente. Ma adesso torniamo a parlare del tovolino numero 3542. Questa bellissima cover di Andrea Freccero per quanto riguarda i disegni e i colori di Mario Perrotta, poi abbiamo anche la cover sul retro dedicata alle storie di On Supone Mouse in the Future. Qui c'è l'ultima storia dedicata appunto a queste celebrazioni con la copertina di Paolo De Lorenzi e i colori di Arancia Studio. Insieme a questo tovolino, come vi ho fatto vedere prima, è uscito il francobollo ufficiale da collezione dedicato appunto ai 100 anni della Disney. Stesso francobollo che esce insieme al cofanetto con all'interno sempre le storie dedicate a On Supone Mouse in the Future. Ormai io ho deciso di non prendere, ho preso il tovolino. Vediamo il cariatira Paperopoli con Paperino che viene inseguito da Archimede e Zio Paperone che vogliono estrarre la sua pigrezia per poterla vendere. E poi abbiamo l'editoriale di Alex Bertani che ci comunica la fine, l'epilogo della seconda stagione degli Evaporati, anche l'epilogo delle storie di On Supone Mouse in the Future e ci annuncia ovviamente che su questo topolino c'è il francobollo di Stembo Twilly e ci dice anche che settimana prossima uscirà un'altra storia con Luca Barbieri alla sceneggiatura ambientata nel Klondike con Barbieri ai testi e Dippolito ai disegni. E poi proseguiamo con la sketch cover di Freccero, molto molto bella, e iniziamo con Gli Evaporati, episodio 5, ultimo episodio della stagione 2 di Gli Evaporati, episodio finale, non credo che ci saranno altre stagioni, con Bruno N ai testi, Davide Cesarello ai disegni e i colori di ovviamente Irene Fornari. I disegni di Cesarello anche qui sono davvero molto ma molto belli. Vediamo che alla fine Topolino riesce a raggiungere la dimensione delta e ci sarà lo scontro finale con Quantum. Ci sarà anche Macchianiere che cercherà ovviamente di portare tutto quello che succede a suo vantaggio, però non vi voglio spoilerare nulla. Vi dico solo che il finale è molto coraggioso, perché non è il solito finale dove finisce tutto bene, cioè il finale è un lieto fine ovviamente perché è una storia Disney, però mi ha colpito perché c'è qualcosa in più rispetto alle classiche storie Disney, quindi non vi voglio dire altro ma vi dico che mi è piaciuto molto. Poi abbiamo la seconda storia dedicata a Pianeta Paperone, il più furbo dei furbi, con Alex Bertani e Vito Stabile ai testi e i disegni di Marco e Stefano Ruota. I disegni di Marco e Stefano Ruota ovviamente sono molto vintage potremmo dire, la storia però devo dire che non mi è piaciuta tanto per quanto riguarda i testi, perché qui abbiamo un venditore, un giovane venditore, che riesce addirittura a convincere lo zio Paperone ad acquistare i suoi prodotti, però il metodo con cui zio Paperone dimostrerà di essere il più furbo dei furbi non mi è piaciuto, non mi è piaciuto proprio, sembra una morale quasi non dato polino, non lo so, mi ha dato delle sensazioni negative, sarà il mio punto di vista ma è così, voglio sapere i vostri commenti su questa storia se la leggerete. Poi abbiamo un bel articolo di Francesca Agrati dedicato al Disney 100, ovviamente l'exhibition di Disney 100, molto interessante, e poi il cofanetto, quello che vi ho detto contiene le storie di One Supermouse in the Future, con le otto storie, e il Franco Bollero è uscito anche con questo topolino, da dire, da premettere, che in origine il Franco Bollero è stato annunciato solo in allegato a questo cofanetto, mentre ultimamente proprio l'hanno anticipato anche su topolino, quindi meno male che almeno ce l'hanno fatto prendere su topolino. Poi dal 14 al 20 ottobre abbiamo l'agenda della settimana, usciranno le cover di Amazing Spider-Man disegnate da autori italiani, qualcuna forse la prenderò, e poi abbiamo la terza storia dell'albo, ovvero Torna, Don't Worry, Bumeppi, di Corrado Mastantuono, test, disegni, supervisione, colore, con i colori di Manuel Giarolli, no scusate, con i colori di Gaetano Gabriele d'Aprile, Manuel Giarolli ha colorato la storia più furbo dei furbi, e niente, questa storia, sinceramente non sentivo la mancanza delle storie di Don't Worry, Bumeppi, perché non mi piacciono molto, preferisco di gran lunga le storie parlate di Corrado Mastantuono, che siano del paper sera, o sempre dedicate a Bobo Unghegno, come l'ultima che abbiamo letto ultimamente, con il ritorno dell'impianchino mascherato, questa, sinceramente, non ho colto molto l'ironia di questa storia, e pure questa non mi è piaciuta, anzi mi è piaciuta meno rispetto a quella del più furbo dei furbi, però è così, sono gusti ragazzi, poi abbiamo la topoguida 2.0, che ritorna, con la cuccia di Pluto, il Cinodromo, il Tabasco Bay, Nowerville, e il Monte Mongelato, e poi abbiamo 313x4, di Massimiliano Valentini ai testi, Federico Buttice, i disegni con i colori di Putra Shabin, Bin Abjalil, questa storia mi è piaciuta davvero tanto, ovvero si scimmiotta un po' la situazione che si è venuta a creare con l'applicazione BlaBlaCar, ovvero il car sharing, e mi è piaciuta davvero molto, che poi in realtà più che il car sharing è il car pooling, come dice Paperoga, e quindi Paperino deve fare un viaggio ad Ocopoli, per portare Malachia ad una mostra felina, per farlo partecipare a questa mostra, però il pieno del carburante costa caro, ed è una storia che rispecchia la realtà ultimamente, e quindi per ovviare questo problema, condividerà il viaggio con altre persone, e queste altre persone saranno persone molto conosciute, non vi dico altro, ma vi dico che la storia è davvero molto frizzante, molto divertente. Qui abbiamo un bel articolo dedicato all'anteprima della storia, dedicata a Zeva Perone e Clondike, che uscirà settimana prossima, a K Diari del Clondike, intervista Luca Barbieri, che sarà lo sceneggiatore, e a Francesco Di Polito, che ne curerà i disegni. E poi vediamo cosa esce in questa settimana in edicola, i grandi classici Disney, che prenderò, bella davvero la copertina, Zio Paperone che non prenderò, abbiamo poi l'anteprima del prossimo numero, bellissima la cover, ragazzi che si rifà a Steamboat Willie, anche se non è originale, però è davvero molto molto bella, con le storie appunto, K Diari del Clondike, episodio 1 di 2 e 2 di 2, Topolino conciato per la festa, Paperino e i campionati contesi, Gamba di legno e la nave fantasma, molto interessante, e Topolino e i WGDP, vabbè questa è la strip story di Casti, Topolino conciato per la festa, chissà se non sarà celebrativa, forse di qualche anniversario, boh, non lo so, e poi ci sarà la statuetta di Steamboat Willie, che prenderò, e poi l'albo si gira al contrario, perché c'è l'ultima storia di questo albo, ovvero One on Superman in the future, quindi lucidatori provetti, storia che si rifà a una storia vecchia, dedicata a Topolino, Pippo e Paperino, che pulivano delle torre degli orologi, questa storia ambientata nel futuro, con al centro di esso, come protagonisti, i meca, vediamo i disegni qui di Paolo De Lorenzi, che sono davvero bellissimi, sembra di vedere un cartone animato, davvero molto ma molto affascinante, come stile di disegno, vediamo anche il disegno dei meca, che sono davvero molto belli, anche qui non vi voglio spoilerare nulla, ci sarà la celebrazione, la parata a Topoline del futuro, dove verrà rimesso a nuovo il primo meca, che ha decretato l'inizio dell'era dei meca, per l'appunto, che assomiglia un po' a Walt Disney, guardate la capigliatura ai baffetti, e i nostri Topolino, Paperino e Pippo, dovranno curarne la manutenzione, la pulizia, e il professor Ening, torna anche in questa storia, ne piloterà appunto, ne diventerà il pilota, poi abbiamo l'intervento di Macchia Nera, che metterà i bastoni tra le ruote, e non vi dico altro, abbiamo l'intervista, sembra Francesco Artibani, che ne ha curato la sceneggiatura, che appunto si è basata sulla storia Clock Cleaners, ecco, del 1937, e Carlo Panaro, no scusate, Artibani ne ha curato il soggetto, e Carlo Panaro la sceneggiatura, anche se qui, no forse hanno curato insieme la sceneggiatura, vediamo, no, soggetto di Francesco Artibani, sceneggiatura di Carlo Panaro, e Paolo De Lorenzi, i disegni, vediamo davvero i disegni, fenomenali. ragazzi, questo era il topolino 3542, che mi è piaciuto abbastanza, però, non posso dargli un voto altissimo, per quanto mi riguarda, gli do un bel 7, un voto buono, se devo fare la mia solita classifica, metterei, sono 5 storie, al quinto posto, Don't Worry, Boom Happy, presenta 4, proprio le storie mute di Boom Boom, non le riesco a capire, al quarto posto, Pianeta Paperoni, il più furbo dei furbi, al terzo posto, metto, gli evaporati, oltre la porta, al secondo posto, Lucidatori Provetti, e al primo posto, 313x4, perché è davvero divertente, mi è piaciuta davvero molto, ragazzi, questo era il numero, fatemi sapere voi, cosa ne pensate, io con questo vi saluto, e ci vediamo alla prossima, ciao.